C'è la nostra persona Qui in piazza Plebicito questa sera è presente il meglio degli anni 60-70, non è esagerato? No, sono un profondo conoscitore perché ho una certa età, siccome questi sono successi che si sono avuti negli anni 60 e 70 logicamente io già avevo qualche anno in quell'epoca quindi li ricordo abbastanza bene questi sono degli artisti veri, noi li abbiamo avuti quasi come un pacco sorpresa alcuni amici hanno creduto opportuno donarli così al sindaco Rampacorta il quale mi ha interpellato sulla bontà della cosa, gli ho dato le ampie assicurazioni e quindi in effetti sono venuti qua questi sono tutti elementi che provenivano dai disciolti complessi della premiata forneria Marconi, Equipo 84, Neutros, James c'è anche, eccoli qua, ecco questo è Poster, è uno dei loro capolavori perché è un brano che loro praticamente eseguono a cappella avremo anche altri brani tipo In Mente Te, Miniera e tutti quegli altri bellissimi pezzi che ci hanno fatto la nostra storia di giovani dell'epoca In Mente Te, Miniera e tutti